Buongiorno a tutti, sono nuove passate, sono le frequenze di Radeon de Furlane, io sono la nuova puntata di Shekker, ti puoi ascoltare come ogni settimana sui 90 MHz per tutta la Furlane, sui 90.2 per Tomiec e non me parta chiaro, non per cercare davvero nel mio paese, ad esempio in Holbega, insegnare i cartapetitori, ma poi intrimedi a ascoltarlo sul web, se ci rinte il sito di radioondefurlane.eu. In alternativa, se proprio non avessi il team di ascoltarlo in streaming intorno a 9 e intorno a 11, dal video della sera, da Riccardo la replica, ti ti puoi ascoltare tutta la spontanea di Shekker, da prima all'ultima, sulla mia pagina di YouTube, se ci riesci a vedere con tre lunghi finali. La nuova puntata è stata quasi simpia e incontemporanea, sulla diretta, anche la nuova puntata, oltre come è detto ad tutta sessata, basta vende molto il tempo, anche se qualcuno, purtroppo, mi hanno costretto a mutilare di qualche stocca, perché secondo ora non sono disponibili dai diritti della radio, dell'Umpaia, del Fior di E.E.U. Ma anche in questo caso, se sei interessato a qualche puntata, basta chiedilas a shekker.ondefurlane.gmail.com e saremo ben contenti di spedire tutte le puntate che volete, naturalmente tra la versione integrale. Ma vedendo i partiti, la puntata di Buea è dedicata al più grande e grande festival reggae europeo, naturalmente istinto a Bayan dal Rototone Sunsflash, che a Beni Cassini in Spagna dal 16 al 21 al agli odierà riuniti il popoli del reggae che arriva da ogni parte del mondo. Che fino al 21 agosto impararà di suns, odors e sorrisos che una volta vedete il parco del Rivellino, sulla porta di piazza, ecco voi venite a fare miliardi di chilometro. Ma la semperdi se non mi ti ha parlato in mente. Taccini invece ascoltà alc, di cui che suonarà questa edizione di quest'anno del Sunsflash. Partim con Alfa Blondi, che viaggerà intorno al voto da prima di viner sedes. No, come ho ascoltim con Amor Papier Lungor. Partim con Amor Papier Lungor. Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 e a tutti e a tutti Grazie 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 a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti